no mi sto ammazzato mi sono ammazzato subito ciao polletti questo è electric va bene e oggi siamo ancora con nintendo switch qui carinissimo perché adesso abbiamo i due joystick separati per giocare un gioco in due no? lei è mia sorella ok? vi ricordate di lei? forse no chi si ricorda di lei? nessuno perché non merita di essere ricambiata ha detto non ho detto che sono più piccola di te qualcuno ha detto che potresti essere minore invece no è maggiore è maggiormente stupida ok stavo dicendo giochiamo a bomberman bomberman gioco nuovo per il nintendo switch che è stato lanciato insomma insieme alla stessa console andiamo subito a fare una battaglia possiamo giocare in due grazie al fatto che questi joycon diventano da un joystick ne diventano due in poche parole adesso fai vedere le cose eccolo qua quindi facciamo una bella battaglia lo sai quello che ti manca? ti manca una lucina davanti una lucina davanti? si guarda ma questo è un canale hobby qui fanno le cose alla buona alla porca e poi c'hai queste cose qua 7-3 tempo 3 va carrelli vendicatori on tutto on noi non sappiamo niente non sappiamo come si gioca non sappiamo quale sono le abilità speciali niente allora mettiamo quale vuoi mettere? è uno facile iniziamo con quello base tu stai muovendo qualcosa? no allora sono io ecco oh io mi cerco il pupo verde perché sembra molto carino questo sono già stancho l'hai visto? ma che hai fatto? ho messo altri due giocatori del computer perché? perché no perché io io le cose difficili chiaro? siamo pronti eh siamo pronti col mitico joy con qui perché adesso si chiama joy con oddio io sono quella ok pronti e che devo fare? che devo fare? ho messo pausa perché hai messo pausa? ma che ne so ma la devi schiacciare ma come fa la scelta? ma io come mi faccio a uccidere gli altri? così si ah oh sei morta? qualcuno mi ha tirato guarda c'è una bomba lì voi non puoi tirate le bombe da sopra? adesso si ma che testi di MA aspetta oh no mi sono gestrato no vince G4 oh 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 non abbiamo Mobil è successo ma io non ho capito come faccio ad ammazzare le altre persone con la bomba la bomba esplode mi diceva pezzonello ma aspetta io voglio fare un po' di prove tipo questo cosa fa? niente, questo, non fa che, e questo? Sei pronta, Kata? Feli, ho fatto Ok, c'ho la doppia bomba, mi sa Sì, c'ho la doppia bomba A quanto pare, almeno così sembra Dai dai, esplodi, coso? Sai quello che faccio? Oh no, mi sono incastrato Mi sono ammazzato Ah ma noi siamo morti, stanno giocare gli altri Sì, penso di sì, ma non ho capito perché Questa volta il mio obiettivo di gioco era Non fare niente Proprio, guarda, sei un macello Dai che si ammazzano, dai Dai, Kata Uno solo deve rimanere vivo Ma perché me le lancia così lontane? Io niente l'ho capito Kata, sembra che quella sia la distanza base Di quando sei morto Quando sei morto, lo tiri così e basta Dai, ma questi non si ammazzano Sono troppo bravi quelli del computer Ammazzatevi Maledizione Ah, però vengono Oh guarda, l'ho preso in testa Se tu lanci molte volte, crei un buco Ah sì, quindi uno può, alla fine muore Cioè Certo, perché metti sempre? Pausa Non lo so Non lo so Non so che dovremo Oh, è morto, bene G3 vince Dai, noi abbiamo zero stelline Wuuu Dipendenze, chi è morto? È morto qualcuno, Kata? Io no Mi sono ammazzato da solo un'altra volta Che palle, Kata, allora vinci almeno Prendi le cose, che cosa sono queste cose che stai prendendo? Non lo so Lascia queste bombe, guarda che lui sta lì Tu devi appunto ammazzare lui No, infatti quando provo ad ammazzare le persone muoio io Quindi l'obiettivo è farli ammazzare da solo come hai fatto te Kata, lui non si ammazza da solo, non è scemo Che sta a dire a tu? Che sta a dire? Kata, l'hai voluto tu Adesso ti uccido io a Katarina Ma perché corro così tanto? Perché sei tipo veloce Ah, 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 ah Beh, Kata Dove sei, Katarina? Dove sei? No, no, no Non è successo? Oh, perché hai risuscitato quello? Ah, perché se... Ma io dove sono? Ma io sono morta Sì, ma perché se ti ammazza lui Se riesce a ammazzarti uno di quelli che sta qui sopra Può tornare in campo Ma ti rendi conto che cosa f***a? No Sì, che lo è No, non lo è per niente Eh, bom Oh, è stato catturato Sono dentro Zotto Uh, vince G1 Vince G1 Ma Non c'è, no, ma Ma ho vinto io No, mi sto ammazzato Mi sono ammazzato subito Guarda un po' quello, guarda quello Pam Sono dentro, madre Di nuovo Sto saper morire Sono morto Foca la pidella Foca Katarina, preparati No, no, no Hai vinto G3, è colpa tua È vero Lo hai fatto vincere No Questa chi la vince? Questa vince l'Ectilpeo Che è il numero G1 Ah, no, è il numero G1 È la lettera G Numero G1 Perché non ho capito Come funziona il gioco Devi fare esplodere i mattoni E far morire le altre persone Sì, e a che servono Quelle carte che io prendo? Sembra che ti hanno Dei potenziamenti in generale A le tue bombe Ok, io poi come faccio Ad uccidere gli altri? Gli lascio lì la bomba Oh, no, oh, no Oh, no Oh, no Non fare come me Semplicemente Oh, no, no, no Ma chi è che ve lancia le bombe? Adesso Muori Muori Esatto, questo start Sei un problema Vincere G4 No, no Io sono l'ultima Non si può fare un gioco a squadre Tipo Eh, sì Sì, felice Non ci perdiamo i due Oh, mio Dio Questo gioco Dai, dai, bomberman Andati da fare Più Io sto prendendo i potenziamenti Ma non so cosa faccia No Forse è il caso Di formarsi Prima di non farci Questo gioco Oh, ma sono lento Tipo Dovrebbe essere Tipo una mossa speciale Che io sto schiacciando Il gioco Non sento No, che strozzo Mi ha circondato Ma mi sono Io ho messo una bomba qui Lui me l'ha messa un'altra Io sono morta Oh, guarda che ho imparato No, no, no Oh, ma Sono morto, carino Sto imparando, Kata Sto imparando Vai, dopo mi dici Qualche giorno Oh, oh, oh Calma, calma Attenzione, attenzione Oh, no, oh, no Ma perché non me ne fa Sempre lanciare le bombe È morto Vincigli uno Bravo, bello Grazie Ora spieghi anche a me Cada, allora Praticamente Quelle carte che prendi Ti fanno fare cose Ma subito? Non subito In generale Per un po' Tipo io ho preso una Che quando schiacciavo La b Mi faceva Tipo spingere le bombe Vedi che puoi fare con la No, non so Non posso fare Le carte che prendi Ti fanno fare qualcosa Però non ho capito Ancora tutte Cosa servono No, 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 no Oh, no, madre Io gioco premendo a caso Quindi tu mi hai incasinato Non io Certo Wow Ma io non posso tornare in gioco Come hai fatto Di tornare in gioco? Eccolo Sono in gioco Madre Come hai fatto a ucciderlo? Cioè proprio Perché hai piazzato una bomba E lui è morto? Vinciaci uno Tre stelle Ho vinto tutto Ho vinto tutto Non è che mi hai lasciato vincere Vero? Haha Scherzavo Oh ma sono numero uno Questo solo Sì tu Comunque sia Per questo video è tutto Se vi è piaciuto questo gioco Commentate E chiedete Insomma Se ne porto altri video Di questa roba Se no Sti cazzi Chiedete più vlog Vlog Tu sei fissata Con questo vlog Vlog Mostrate un po' di amore Al pulsante qui sotto A formare i pollici in su Questo è l'Electric Brrrr Ciao Ciao Ciao